E' stata una mattinata intensa, però un dibattito che secondo me è necessario, un dibattito che parte dall'automotive ma che si allarga al mondo dell'energia, cosa che prima non avveniva e che oggi necessariamente deve avvenire per capire il doppio cambiamento. Da un lato il cambiamento dell'auto, che è un cambiamento della mobilità, di come ci spostiamo, ma dall'altra parte anche del mondo dell'energia, come cresce la ricarica, come le batterie aiuteranno le reti elettriche e quindi sono due cambiamenti, due cambiamenti che io metto sempre sotto una lente tecnologica e non ideologica ambientalista. Bisogna capire come stanno evolvendo le tecnologie, in che modo aiutare l'industria a capire questa trasformazione che è doppia. Il 2035 non è un dogma, è un'indicazione che la Commissione Europea ha dato, c'è stato sicuramente un errore di comunicazione perché dal 2035 non è preteso che tutti viaggeremo in elettrico, ma è un'indicazione per l'industria per cavalcare e aiutare questa trasformazione. Quindi tolto questo fraintendimento, il 2035 può anche cambiare, ma se lo mettiamo sotto una chiave tecnologica non è un cambiamento. Io faccio sempre un'analogia con quello che è successo sul mondo delle tecnologie, pensate a Kodak, pensate a BlackBerry. Dobbiamo stare attenti a non cadere in questi errori e sottovalutare questa trasformazione. Quindi i dibattiti come oggi vanno sicuramente approfonditi, vanno approfonditi sotto una chiave scientifica, però tecnologica e non banalizzandola solamente ai temi ambientalisti. Inquadro il tema sotto due punti di vista. Il primo, quello che diceva Draghi nel rapporto sulla concorrenza, che è un mercato anche qua competitivo e tecnologico, sul quale bisogna puntare. E dall'altra parte DeMeo, in chiave europea, che dice che c'è bisogno di un rafforzamento di una chiave europea per aiutare il settore. Quindi sotto questo dualismo che comunque punta sempre sotto la stessa direzione, dobbiamo affrontare questo tema. Un tema che mette l'Europa tra la Cina e gli Stati Uniti. Abbiamo visto stamattina la Cina sta entrando anche pesantemente con l'endotermico, quindi non è un problema di elettrico questa trasformazione. Noi come Energy stiamo aiutando il settore dell'elettrico in questa trasformazione. Come dicevo prima, non è a gradino una trasformazione lenta che vede il 2035 come obiettivo per le aziende e per quelle persone che possono andare sull'elettrico. Sicuramente è un rischio oggi, perché lo vediamo da quello che i giornali riportano quotidianamente, dobbiamo però imparare come loro hanno fatto questa trasformazione credendoci, credendoci in modo unitario, mettendo insieme istituzioni, industria ed Europa. E questo è quello che dobbiamo fare.